Ciao a tutti ragazzi, io sono Lion, bentornati sul mio canale, bentornati al vlog settimanale dove parleremo al solito delle novità dei titoli di strategia e delle novità che ci saranno sul mio canale. Perché ancora non mi conoscesse, io porto titoli, gameplay, tutorial e guide di giochi di strategia, principalmente Paradox e Total War. Allora per quanto riguarda le novità sui titoli strategici abbiamo su Europa Universalis 4 un'aggiunta di decisioni, missioni e meccaniche per alcune civiltà, quindi molto interessanti. Io non sono un super fan di Europa ma insomma per i fan ragazzi buttateci un occhio agli update che hanno pubblicato su Steam perché insomma secondo me sono molto interessanti. Per quanto riguarda invece Earth of Iron 4 ci sarà il rework totale della Grecia quindi avremo tutto un albero focus, un focus stream molto interessante con delle decisioni e delle meccaniche per poter giocare anche la Grecia all'interno della seconda guerra mondiale. Per quanto riguarda invece Crusader Kings 3 è già uscito da un pochino, ormai dal primo settembre, è ovviamente uscito anche il pass stagionale a 30€ che comprenderà lo sblocco di 3 DLC che ovviamente non sono disponibili adesso ma quando saranno disponibili verranno immediatamente aggiunte al nostro account e non dovremo pagare nulla di più. Quindi diciamo è un po' un pacchetto che di solito ci fa risparmiare dai 10 ai 20€. Quindi insomma speriamo che siano delle valide DLC. Per quanto invece riguarda ragazzi le mie live, al solito ci saranno due live settimanali, una mercoledì alle 22 e un'altra venerdì alle 18. Porteremo in entrambe le live il gameplay di Crusader Kings 3 con il re di Svezia, una campagna che abbiamo iniziato anche con la chat. Ci sono un po' di cosine da sistemare, qualche nuovo bambino che nasce che verrà scelto il nome dalla comunità. Insomma attaccheremo determinate zone in Norvegia, in Danimarca, in Finlandia. Insomma decideremo ragazzi il da farsi del regno di Svezia tutti insieme in chat. Quindi passate, ovviamente mi potrete chiedere tutto quello che è inerente a Crusader Kings, ma non solo. Insomma vi spiegherò anche un pochino le cose che faccio, una sorta di anche un po' tutorial interattivo, no? Quindi insomma passate ragazzi che sicuramente ci divertiremo. Per quanto riguarda invece i giochi che pubblicherò a livello settimanale, vi informo che lunedì uscirà una guida di Crusader Kings 3. Non vi dico su che cosa perché lo scoprirete domani, beh ragazzi però vi posso dire che sarà una guida molto molto utile. Ovviamente se usata a dovere. Ovviamente continueranno a uscire quotidianamente video di Crusader Kings con il vecchio Ducat Aquitana che ormai è diventato Red Asturia. Quindi, beh, venite ragazzi, venite a vedere perché a breve vi informo che probabilmente la situazione cambierà di nuovo, ovviamente in meglio. Quindi, beh, è una campagna molto interessante. Finalmente finiremo la campagna anche su Stellaris perché siamo arrivati al raggiungimento della crisi. Quindi sono arrivato al punto, insomma, dove è uscita la crisi e vi farò vedere come si affronta l'evento finale del gioco. Quindi siamo arrivati e dovrebbero essere, se tutto va bene, due o tre episodi. Quindi termineremo Stellaris e poi magari inizieremo anche una nuova campagna. Su Europa Universalis invece, scusate, su Earth of Iron andremo avanti un altro pochino. Diciamo che la guerra è quasi finita. Di solito per una guerra totale si va a conquistare anche la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Ma tutto sommato, per un tutorial iniziale, credo che una volta che siamo entrati nell'Unione Sovietica e abbiamo respinto poi gli americani sul fronte, diciamo, francese, ormai detesco, sul fronte spagnolo, ormai detesco, dovrebbe essere abbastanza concluso. Quindi probabilmente finiremo anche la serie di Earth of Iron, ma non lo so, ragazzi. Non so se mi serviranno un'altra due settimane, quindi 4-5 video. Comunque queste sono le novità. Se i contenuti vi sono piaciuti oppure se volete dare un occhio al canale, ragazzi, iscrivetevi, commentate, anche per magari parlare un po' delle nuove novità che porterò io e delle nuove novità che ci saranno in generale su Dio Vista 12. Ciao a tutti e al prossimo episodio.